Vieni la prima volta Sì, ho fatto 1.30 e ho fatto 1.50 Adesso non è vero a salire Ma che voglio qualificare? Che cosa sali? Non c'è risalto Eh? S'ha finito risalto Vabbè, non c'è risalto Se qualificare uno è fatto 1.50 Che cazzo fa' Che cazzo fa' Dai, Gigi Dai, Gigi Dai, Gigi Dai, Gigi Dai 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 No, no Dai Ti Ma E' La 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 E' E' D' Ra Lin Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.